Se per il periodo sia positivo adesso, ho cercato un nuovo allenatore, la vittoria di Feridia di Feridio, cosa sta cambiando per il periodo? Allora, siamo in un periodo positivo, incrociamo le dita sperando che duri, ma quello che vedete in campo è tutto di un lavoro che facciamo in palestra tutti i giorni. Massimo sta facendo dei grandi allenamenti e noi stiamo rispondendo molto bene a quello che lui ci impartisce, quindi quello che vedete voi qua l'abbiamo provato da martedì, pensamente i frutti si stanno vedendo. Cosa è cambiato con il cambio di allenatore? Ah, guarda, quando succedono queste cose è sempre la scossa che ti aiuta. Massimo, Romano, faceva anche lui degli allenamenti, era un buon allenatore, hanno avuto proprio un inizio di stagione fortunato, questo bisogna dirlo. Massimo è arrivato, ha dato la tranquillità che ci serviva in questo periodo e speriamo che duri. Una, diciamo, molta più sicurezza anche in parte di servizio e anche in attacco, su che cosa avete lavorato principali? In settimana lavoriamo molto su tutti i fondamentali, nel servizio dell'attacco la sicurezza viene da due prestazioni positive che danno comunque consapevolezza nei nostri mezzi, quindi in ogni partita, in facciamo, stiamo migliorando e anche la sempre meglio. Quanto vale questa squadra, se potete, perché l'inizio di stagione non è stato dei più fortunati, però vedete anche voi adesso che il livello della squadra è alto, si gioca dei punti fondamentali, certo abbiamo ancora qualche meccanismo da odiare per bene, ma possiamo dare fastidio a tutti.